E adesso passiamo alla fermazione in testa della classifica del GV di Serie B. Signore e signori, scelta in campo, l'Atletico Firrena! Via! Poi ancora la rosa, in mezzo, Arlena! La rosa! 1-0 il vantaggio dell'Atletico Firrena, non l'ha toccata Morelli. La mette in mezzo, Martina! Maurelli! Tonicchi, Tonicchi, Silvia Tonicchi, Stracciatella, Silvia Tonicchi! 3-0! Maurelli mette in mezzo, Arlena! La rosa! Si chiuda praticamente i giochi, 4-0, 4 come il numero di maglia. E al campo di Saliboglio è finita! L'Atletico Firrena batte il Real Fabrica per 4-0. Grazie alla doppietta di la rosa, ai gol di Morelli e di Tonicchi.